Il Consiglio di Stato ha detto no al proseguimento dei lavori per la realizzazione del centro commerciale Mirò a Chieti, noto anche come Megalodue, confermando la pronuncia del Tar che rigettò il ricorso dei costruttori. In particolare, nella sentenza dello scorso 12 ottobre, i giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente dato ragione alla Punto Garden SRL, titolare di alcuni terreni vicino al luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale e dalla regione, respingendo gli appelli proposti dalla Sile Costruzioni e dal Comune di Cepagatti. Grande soddisfazione viene espressa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, che hanno rappresentato in giudizio proprio la Punto Garden SRL. Nello specifico, il Tar di Pescara aveva annullato le proroghe dei permessi di costruire rilasciate dai comuni per la mancanza della partecipazione al procedimento dell'ente preposto alla valutazione ambientale. Il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità delle proroghe dei permessi di costruzione, precisando che era già chiaro il diniego dell'amministrazione preposta alla valutazione di impatto ambientale e che dunque illegittimamente i comuni interessati avevano consentito di proseguire i lavori. Più precisamente, il Consiglio di Stato ha dato atto che il Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale avesse espressamente evidenziato che il sostanziale mutamento delle condizioni ambientali, infrastrutturali e socio-economiche del contesto territoriale interessato non consentissero la realizzazione del nuovo centro commerciale. Secondo i legali, inoltre, la stessa autorità di Bacino aveva espressamente affermato in plurimi atti che l'area individuata per la costruzione del nuovo centro commerciale dovesse rimanere libera da costruzioni e che gli argini di cui era stata ordinata la costruzione fossero unicamente diretti a preservare l'area a monte e non a rendere edificabile quella a valle. Ora si proceda con l'obbligo di demolizione di quanto costruito senza permessi legittimi e con le richieste di risarcimento a chi nelle pubbliche amministrazioni ha creato danni alla collettività. E questa è la posizione delle WWF di Chieti Pescara, espressa dalla presidente Nicoletta Di Francesco, che commenta così la sentenza del Consiglio di Stato che pone la parola fine al progetto Mirò di Chieti Scalo.